Dobbiamo avere un cambio di rotta, un cambio di marcia. Intanto dobbiamo guardare alla salute come un investimento e non come una spesa. E poi dobbiamo capire quanto è importante investire proprio sulla prevenzione. Questo per un duplice motivo. Il primo perché da cittadino, da medico, da Ministro della Salute, io mi auguro che i cittadini italiani, oltre a vivere di più, vivano bene, siano in buona salute. L'altro per il motivo che lei giustamente prima sottolineava, è impensabile, soprattutto in futuro con il trend di invecchiamento che abbiamo, pensare che sia sostenibile il Servizio Sanitario Nazionale se non facciamo prevenzione. Questo è un problema culturale. Noi ci stiamo impegnando molto per portare il messaggio della prevenzione direttamente nelle scuole. Io credo che sin dalle scuole elementari i ragazzi e le ragazze devono essere educati a quanto siano importanti gli stili di vita, le corrette abitudini alimentari e quanto sia importante proprio la prevenzione.